Se n'è andato Ermano De Coll, il sindaco, come ancora tutti oggi lo ricordano, il maestro di generazioni di alunni bellunesi. Tra pochi giorni, il 29 agosto, lo aveva compiuto 80 anni. 80 anni sempre vissuti a servizio della comunità. Entrato nel Consiglio Comunale di Palazzo Rosso nel 1968, fino all'ultima esperienza chiusa un paio di mesi fa con la seconda amministrazione Massaro. Consigliere comunale, più volte assessore tra gli anni 70 e 80, dal 2001 al 2006, fu sindaco di Belluno. E' il quinquennio in cui è partita la raccolta differenziata, che adesso è non solo un must per tutte le amministrazioni. E poi siamo nell'anno del cinquantesimo di Buzzatti, non posso dimenticare che presente anche al Merina Buzzatti, la vedova del grande scrittore e pittore, abbiamo inaugurato una serie di vie nel Castionese dedicate proprio ai temi buzzattiani. Socialista di sinistra fu anche coordinatore provinciale dell'Ulivo dopo Marco Perale e nelle amministrazioni Massaro fu uno dei protagonisti dentro e fuori dell'aula di Insieme per Belluno. Grande il suo sostegno alle ultime elezioni amministrative e alla candidatura di Lucia Olivotto. Questa cosa un po' mi commuove, mi commuove perché lui diceva che il suo desiderio, ecco diciamo uno degli ultimi che stava esprimendo, era di vedermi sindaco. E questa cosa un po' appunto mi commuove perché lui c'è stato con me, è stato vicino e io lo ringrazio molto per questo. Un maestro nelle scuole ma anche del fare politica, in molti negli anni lo hanno osservato e studiato. I suoi insegnamenti e il suo esempio hanno lasciato il segno non solo tra chi sedeva vicino a lui. Io ho appena compiuto 18 anni, c'erano le elezioni comunali, lui era all'interno del partito socialista e io l'ho votato perché credo che fosse una persona veramente di grande spessore. Un personaggio estremamente grintoso, coerente, appassionato, uno dei pochi politici con una parola sola, se era sì era sì, se era no era no. Un amico di una grande persona, di una persona onesta, di una persona schietta, sincera. Ho dei ricordi per la sua passione, per il suo impegno, per la sua costanza, per la sua tenacia. Tanti messaggi di cordoglio, da quello del presidente della provincia Roberto Padrin, che lo ricorda come un uomo saggio che aveva sempre una parola illuminata e una visione lungimirante. Al sindaco di Belluno, Oscar De Pellegrin, che parla di una vita ben spesa a servizio della comunità e ricorda quando, data letta ancora in attività, lo spitò a cena. Fino all'ex sindaco Jacopo Massaro. Se ne va un pezzo di storia di Belluno, un uomo che ha incarnato l'idea della politica vera e seria, sempre impegnato per difendere i propri ideali e la sua comunità e mai per la poltrona. Nel mano lascia la moglie Anna, la figlia Claudia e i due nipotini. L'ultimo saluto avverrà in forma privata.